Si svolgerà sabato e domenica 24 e 25 settembre a Savona, all'ombra della Torretta, la 32esima edizione del meeting di Canoa Velocità, medaglia d'argento del Presidente della Repubblica. Alla gara parteciperanno più di 1100 atleti. Quest'anno l'abbiamo inserito nei festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia, con un'iniziativa abbastanza singolare, dove faremo una sfilata storica che parte dalla piazza del comune di Savona per arrivare alla Torretta. Questa sfilata accompagnerà i rematori, quindi la sfida si disputerà su Gozzi e gli equipaggi sono formati da Garibaldini, Piemontesi, Briganti e Borboni. Poi abbiamo la Festival del Dragon Bot, dove sono quei volte le scuole cittadine superiori e naturalmente avremo altri equipaggi, oltre i nostri di casa, provenienti anche dall'estero. Questa manifestazione è ormai internazionale da diversi anni, diciamo a club che provengono dall'Ungheria, dalla Romania, dalla Repubblica Ceca, Cecoslovacchia, Polonia e naturalmente tutte le società del settentrione, che sono presenti in massa perché ovviamente i trofei ambiti, che sono la medaglia del Presidente della Repubblica, la medaglia del Presidente del Senato e la Coppa della Camera, la vinceranno a quei club che naturalmente, oltre ad avere atleti di alta qualità, hanno anche numeri in base a un punteggio che premia la quantità dei partecipanti. Grazie a tutti.